Il grande hotel nasce nel 2003 quando la famiglia Pedetti vede un'asta e decide di comprare il grande hotel da un'asta. Poi dal 2014 il grande hotel viene gestito direttamente da noi e oggi con grande orgoglio riceviamo la quinta stella. La storia del grande hotel è che il 2003 lo compriamo, il 2014 iniziamo a gestirlo e il 2018 abbiamo la quinta stella. In questi anni abbiamo fatto tanti sforzi, tanti investimenti, siamo passati da 35 dipendenti a più di 60. Investimenti continuano perché il ristorante l'anno scorso era diverso e quest'anno l'abbiamo rinnovato. Abbiamo anche fatto due nuove suite, abbiamo quindi tolto quattro camere e abbiamo fatto nuove suite. Abbiamo riaperto la spa e pensiamo adesso di fare nuove iniziative ma soprattutto per i turisti, quindi creare pacchetti esperienziali per i nostri turisti.